A me il bosco ad esempio ha dato la meraviglia della lentezza, ma anche dell'assaporarmi un paesaggio sonoro. Oggi cosa devo fare? Non devo né giocare alla PlayStation, non devo fare niente, devo andare nel bosco. Non voglio neanche leggere un libro, voglio soltanto camminare. E uno mi potrebbe domandarti perché? Cioè dove vai? Non lo so. Cammino soltanto perché voglio scoprire spazi nuovi, non soltanto fuori, ma anche spazi nuovi dentro. Perché tante volte guardando un fiume ti arrivano delle illuminazioni. Ad esempio c'è il forest batting che quando ti dicono proprio i medici ormai vai nel bosco, stai due ore. E torna il respiro regolare, torna l'apertura dello sguardo, le possibilità. E quindi penso proprio sia curativo il bosco. Grazie.